Ciao a tutti amici giacari, bentornati sul canale e benvenuti se siete nuovi. Io sono Giuseppe e su questo canale racconto la mia esperienza da allevatore. Trovate in mente tantissimi video in cui vi porto con me il percorso da quando ho cominciato con i primissimi jackie fino ad oggi che vi sto per presentare animali che costano diverse centinaia di euro. Su questo canale trovi davvero tantissime skills, tantissime kick e tantissimi consigli che possono servirti per approcciarti a questo mondo se sei nuovo ma anche tanti piccoli dettagli che possono servirti per fare il salto di qualità col tuo allevamento. In questo video voglio presentarvi una freschissima new entry dell'allevamento ossia una jackie sulla quale punto davvero tantissima per la prossima stagione e che sì, è costata un bel po' ma sono sicuro dalle grosse grosse soddisfazioni. Lei ragazzi è Obsidian, una bellissima jackina Black Knight Carbon. Come vedete è un animale molto molto scuro, non nero ma di un marrone davvero davvero molto molto intenso ed è un jackino parecchio melanistico. Infatti i Black Knight Carbon sono una selezione di jacki melanistici sui quali oggi vorrei aggiungere qualche informazione interessante. Il suo nome è Obsidian, prende spunto chiaramente dall'Ossidiana che è un minerale nerissimo, bellissimo, che sicuramente almeno una volta vi sarà capitato di vedere, almeno in foto. Come dicevo ragazzi, questo animale proviene da una selezione di jacki melanistici che sono sicuramente tra i più ricercati sul mercato dei jacki duopardini e di conseguenza sono anche quelli che hanno un prezzo un pochino più alto. In realtà il prezzo deriva da tutta una serie di fattori che in questo video vogliamo andare a vedere insieme. In particolare oggi cercherò insieme a voi di capire il motivo per cui il prezzo è così alto il perché sono animali così rari e così difficili da trovare ma soprattutto cercheremo di rispondere ad una domanda ossia è possibile avere, partendo da zero, dei jackini neri nel nostro allevamento? Visto che i jacki melanistici sono così costosi hanno attratto nel tempo l'attenzione di tantissimi allevatori appassionati e curiosi che quotidianamente mi scrivono ad esempio su Instagram chiedendomi dei dettagli per capire perché costano così tanto e visto che esistono diverse tipologie di jacki melanistici quotidianamente veniamo domande del tipo che differenza c'è fra un Black Knight e un Carbon? Per questo video cerchiamo di andare per step innanzitutto iniziamo a capire perché il prezzo è così alto in realtà la risposta è molto semplice diciamo ci sono due punti fondamentali il primo è che sono animali che tendenzialmente incontrano i gusti di tutti quindi piacciono tanto agli allevatori più esperti ma anche allevatori nofiti quindi c'è un'altissima richiesta due, non sono facilissimi da reperire sì, possiamo dire che sono animali abbastanza rari di conseguenza quei pochi che ci sono in giro hanno anche un prezzo molto alto quindi andando con ordine è possibile avere dei leopardini così scuri partendo da zero? per capire un pochino perché sono così difficili da trovare proviamo a capire come si fa ad ottenere un jacko leopardino nero in linea di principio è molto semplice basta prendere un maschio nero una femmina nera farli accoppiare e si hanno dei piccoli niscuri beh, a dirsi è facile il problema è che uno potrebbe domandarsi ma come faccio se io non ho due jack neri di partenza da dove parto? e questa è una cosa che mi sono domandato anch'io spesso come hanno fatto i primissimi allevatori ad avere dei jack neri? se consideriamo che in natura i leopardini sono gialli a puntini neri beh, sicuramente i primissimi che sono stati selezionati provengono da quelli gialli non c'è altra spiegazione quindi cosa ho fatto? per capire un pochino che tecnica avessero utilizzato se c'è una tecnica particolare premettiamolo che tecnica hanno usato i primissimi allevatori che hanno selezionato i jack neri scuri ho fatto la cosa più basic che si può fare ho preso il mio computer e ho cercato un pochino online la primissima cosa che ho fatto è stata semplicemente prendere il computer e cercare Morph Jack Leopardino su internet e uno dei primi risultati è questo sito che si chiama Planet Morph che è molto semplice a dire la verità ma allo stesso tempo anche molto molto concreto troviamo qui nella sezione Morph un elenco infinito di Morph su cui possiamo andare a cliccare per vedere qualche dettaglio riguardante questa genetica per capirci qualcosina in più sui Morph sul tema Morph ritorneremo sicuramente più in là con dei video molto più dettagliati cercheremo di fare una panoramica e metterò a vostra disposizione tutte le cose che ho imparato in questi anni di allevamento quindi mi raccomando iscrivetevi in modo del tutto gratuito per non perdervi questi contenuti che sono certo non li avete trovati da nessun'altra parte almeno su Youtube Italia detto questo torniamo su questo sito vediamo un elenco infinito di Morph ad esempio clicchiamo su Eclipse vediamo che ci esce una piccola descrizione di questo gene e tornando invece al tema melanistici c'è anche proprio scritto melanistic qui se clicchiamo sopra osserviamo semplicemente che per ipermelanistico si intende un animale che ha un colore più scuro del solito ora ci sono diverse tipologie di animali melanistici ossia diverse selezioni possiamo andare a cercare il Black Knight che sono sicuramente i più conosciuti e i più famosi e se leggiamo velocemente la descrizione osserviamo che proprio il primo Rico dice il Black Knight è una linea melanistica selezionata da Ferry Surmon in Olanda e già qui osserviamo una cosa interessante i Black Knight sono stati selezionati da questo allevatore in Olanda poi chi è più curioso se vuole leggere un pochino meglio le cose trovate in descrizione il link del sito se cerchiamo Carbon invece che cosa troviamo troviamo una brevissima descrizione che dice che i Carbon sono una linea melanistica di Ultimate Geckos che è un altro allevamento in cui è stato selezionato da un'altra parte del mondo questo fenotipo ossia dei gecchini così scuri quindi la primissima differenza che possiamo dire esiste tra i Black Knight ad esempio e i Carbon è che i Black Knight sono stati selezionati da un allevamento in Olanda i Carbon invece da quest'altro cristiano qua Ultimate Geckos da un'altra parte del mondo quindi per rispondere brevemente qual è la differenza tra Black Knight e Carbon ma che poi si ripercuote anche su tutte le altre selezioni di gecchi melanistici è che provengono da allevamenti diversi che hanno fatto selezioni diverse e sono arrivati a dei morfi differenti ora su come il signor Ferri abbia selezionato i Black Knight non ci sono tantissime informazioni dettagliate comunque c'è bisogno di fare delle ricerche molto molto approfondite e difficilmente si trova qualcosa di concreto per quanto invece riguarda ad esempio i Carbon che sono una selezione decisamente più recente si può fare un rapido passaggio su Facebook sulla pagina di Ultimate Geckos e si scopre scendendo molto molto in basso qualche dettaglio riguardo questa selezione ovviamente troviamo tantissime 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 fotografie dei gecchi disponibili quindi se qualcuno di voi fosse interessato a prendere un Carbon per contattare questo Ultimate Geckos qua dicevo scorrendo in basso per qualche minuto si arriva a circa il 2018 in cui questo ragazzo non ho idea di quanti anni abbia in realtà lo chiamiamo ragazzo questo allevatore presenta ufficialmente la sua linea di gecchi melanistici ed è interessante osservare nei commenti come la gente incuriosita da questo progetto gli abbia chiesto quali animali avesse accoppiato per avere un fenotipo di questo tipo visto che era praticamente l'inizio di questa linea ed è bello leggere tra i commenti che Ultimate Geckos sottolinea il fatto che il primo gecko scuro è uscito fuori per caso dice soltanto un gecko strano purtroppo non c'è una genetica precisa dietro la nascita di questo animale è stato poi lui furbo a accoppiare nuovamente questo esemplare per ottenere con le generazioni successive animali sempre più scuri questo per dirvi che partendo da genitori gialli chiari si può avere un geckino scuro ma deve esserci anche una bella botta di culo dovete averne tantissimi da poter far accoppiare prima di avere un geckino del genere e quindi in sostanza se si vuole partire con un progetto è molto più conveniente partire da geckini che sono già scuri probabilmente così come i carbon sono usciti fuori diciamo un pochino per caso anche le altre selezioni gecki melanistici probabilmente hanno avuto una genesi simile quindi è nato un primo animaletto particolarmente scuro un po' così dal nulla e poi l'astuzia e l'intuito degli allevatori li hanno portati a selezionare degli esemplari sempre più scuri fino a rendere solidi quei tratti e ad averli anche nella prole ovviamente però io vi sconsiglio di prendere due animaletti gialli e sperare che escano neri prima che possa succedere una cosa del genere penso che dobbiate vincere la lotteria l'altro tra i commenti scusate la pessima traduzione c'è anche scritto insomma non si può vincere sempre la lotteria si è reso conto anche altri metti geckos di aver avuto abbastanza fortuna e vi dirò di più se far nascere un gechino nero da una coppia di genitori gialli è quasi impossibile è anche difficile che nasca un gechino nero da genitori completamente neri sì è sicuramente molto più facile che nascano dei gechini completamente neri da genitori che sono a loro volta neri però stando alle statistiche degli allevatori circa il 20% della prole esce completamente nera pur avendo dei genitori completamente neri ne capite quindi che è sempre difficile mettere dei gechini del genere sul mercato un altro aspetto che contribuisce ad aumentare il prezzo di questi animali è che come abbiamo visto nascono da parti diverse del mondo e quindi da allevamenti singoli questo vuol dire che per selezionare in quell'allevamento dei tratti come il melanismo così accentuati sono stati probabilmente accoppiati gli animaletti erano consanguinei tipo fratelli nati da fratelli nati da fratelli nati da fratelli e quindi si sono portati dietro qualche difettuccio genetico come ad esempio gli occhi un pochino più grandi della norma la coda un pochino più piccola della norma sono animaletti che crescono un po' più difficilmente rispetto agli altri e fin qui in realtà nulla di particolarmente drammatico il dramma se così vogliamo chiamarlo è che una discreta comunità di Black Knight o di Calvolo o comunque gli animaletti parecchio selezionati risultano sterili quindi mi capite che se aggiungiamo anche questo fattore è sempre più complicato riuscire ad avere dei gecchini così scuri e di conseguenza sono sempre meno quelli disponibili e di conseguenza quelli pochi disponibili sono sempre più costosi ritornando un pochino ad Obsidian lei è una Black Knight Carbon ossia un gecchino che nasce dall'ibridazione di queste due linee melanistiche che come dicevo vengono da parti diverse del mondo e sono state accoppiate per avere una nuova linea melanistica che è la Black Knight Carbon che secondo me è una cosa molto intelligente perché mischiando il sangue di queste due linee melanistiche si vanno a mettere delle pezze su quei problemini genetici molto scoccianti primo fra tutti l'infertilità degli animali beh ragazzi io per questo video vi ho detto tutto spero che vi sia piaciuto spero di avervi dato qualche informazione interessante riguardo i gecchini melanistici e abbiate capito un pochino di più perché sono così costosi se è così è stato mi raccomando lasciatemi un bel like ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti perché Obsidian è solo una delle tantissime novità che arriveranno nell'arco di quest'anno ci sono anche altri animali che devo presentarvi perché qui le cose si fanno davvero grandi grazie a tutti ragazzi per avermi seguito io vi ringrazio la visione vi do appuntamento al prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube ciao e mentre vi do qualche secondo per iscrivervi al canale qui cliccando sul cerchietto con il logo mi ricordo che abbiamo un sponsor Italian Clicket Farming che ci mette a disposizione il codice falegno per risparmiare il 10% sull'acquisto dei vostri insetti da pasto mi raccomando fate un giro sul sito che hanno animaletti di ottima volta